Ma se va, io poi non so com'è perché si sa, è un bacione. Allo Stato, non è vero. Poi mi incontro la traduzione di tutti. Annunciamo con un caloroso applauso il maestro Giulio Cesar di D'Amero. Iniziamo proprio, entriamo nel vivo della gara. Il primo brano d'obbligo che ci faranno ascoltare è un brano sinfonico dal titolo Simbiosis composto dal professor Mario Gagliani. Brano primo classificato al concorso nazionale di composizioni originali per banda intitolato al maestro Antonio Liorio che si è svolto quest'anno a febbraio. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti.